Il prossimo talento interista che rischia di oscurare la prima squadra di Mazzarri, stiamo parlando di Demetrio Steffè, autore di questa magia durante il derby stravinto 6-0 contro il Milan nel Memorial Mamma Cairo di domenica scorsa, una rete pazzesca, incredibile che in poco tempo ha fatto il giro del mondo candidandosi come gol dell'anno. Ma chi è Demetrio Steffè? Classe 1996...